All right, a Starvene, siamo qui nella splendida cornice del Baba Boom Festival e abbiamo l'onore di avere Bunna e Madasky from Africa Unite, benvenuti ragazzi. Grazie, grazie, un piacere per noi stare qua, si inspira una bella aria. Grazie, grazie, sì. Beh, che dire, insomma, c'era mancata questa dimensione del live veramente dopo tanto, troppo tempo e tra l'altro cogliamo l'occasione per farvi gli auguri per il vostro quarantesimo anniversario più uno, visto che uno ci è stato rubato. Eh, purtroppo sì, nel senso che chiaramente l'anno scorso era un po', cioè abbiamo pensato che fosse abbastanza inutile festeggiare in una situazione come quella e quindi, insomma, abbiamo posticipato di un anno, però, insomma, importante che lo stiamo facendo. Assolutamente e tra l'altro, insomma, è fuori il vostro ultimo lavoro, non è fortuna e ci sentiamo di gridarlo a gran voce perché se uno, insomma, per 40 anni, anche al di fuori del panorama della reggae music, ma ancora più vero nella reggae music, quando veramente non c'era nessuno che la faceva, c'eravate solo voi e ancora oggi, dopo 41 anni, ci siete voi come un'istituzione e allora, che ne so, raccontateci un po' qual è la vostra ricetta della giovinezza. La ricetta è molto semplice, la ricetta è il piacere di suonare, di fare queste cose, di continuare a farle anche dopo tanti anni, con lo stesso entusiasmo, è il piacere di muoversi, di andare in giro, di conoscere delle persone diverse, di tutti i tipi, uno scambio, la musica è un linguaggio. Noi sentiamo di avere ancora delle cose da dire a livello musicale e specialmente a livello sociale, cosa che abbiamo sempre fatto, perché il periodo in particolare in questo momento non è dei migliori, abbiamo sicuramente vissuto delle situazioni più rilassate e allora io penso che sia un dovere di tutti e un po' dei musicisti che magari lo fanno in una maniera un po' più leggera attraverso la canzone, dire delle cose, parlare di ciò che succede veramente nel mondo. E' assolutamente una benedizione che ci sia un Africa Unite insomma qui a farlo, dunque il disco è veramente una bomba, poi vabbè le collaborazioni sono stratosferiche, io credo che avete anche un po' acchiappato quella che è sempre stata un po' una vostra fonte di ispirazione, no? Assolutamente sì, nel senso che solitamente se tu guardi i progetti dell'ultima ora fanno le collaborazioni per andare a beccare un pubblico che non è il loro. Nel nostro caso chiaramente non è così, noi abbiamo cercato, insomma i nostri personaggi che sono stati quelli che ci hanno ispirato sin dall'inizio, quindi David Hines, uno su tutti, Brinsley Ford e gli Aschwell, che sono stati gli ascolti che chiaramente dopo Marley ci hanno permesso di capire come si poteva suonare questo genere che inizialmente lo percepivamo come chiaramente un po' lontano, difficile fondamentalmente. Veramente fantastico, piccola curiosità divertente, ma ho 41 anni, ma non litigate mai, ma come fate? Siete sempre voi, insomma voi siete il nucleo, lo zoccolo duro, no? E siete sempre qua? Sì, ogni tanto qualche diverbio ce l'abbiamo, ma sono cose che si risolvono in pochi minuti diciamo. Poi in questi 40 anni abbiamo fatto i soci, tra virgolette, nel mondo della musica, ma noi siamo più che altro amici nel mondo reale, abitiamo a 300 metri l'uno dall'altro, ci vediamo quasi tutti i giorni, insomma ci diamo dei consigli, a volte la pensiamo, molto spesso la pensiamo in maniera differente, ma è questo il bello della vita. Alla fine abbiamo scoperto di essere in qualche modo complementari, nonostante chiaramente abbiamo delle visioni chiaramente diverse, ma insomma forse è questo proprio il segreto di quello che è lo stile e il suono degli Africa, quindi ben venga. È vero, è vero, in effetti la complementarietà è proprio una cosa che esce fuori anche nello show. Ragazzi veramente noi non vediamo l'ora di vedere lo show sul palco, noi siamo a star bene e ci teniamo a fare un po' sto giochetto con gli artistici, ci piace chiedere se ci sono tre cose fondamentali nella vostra vita che vi servono per a star bene. Sicuramente siamo qua a parlare di concerti, sicuramente il fatto di tornare a fare i concerti insomma in una dimensione di normalità ci fa sicuramente star bene e questa una ce la siamo cavate. Ovviamente la seconda? La seconda dipende dai concerti e il fatto che comunque nei concerti è molto più facile star bene che a casa perché hai tante diciamo occasioni in più di tutti i tipi e poi a me personalmente fa stare molto bene il fatto di creare la musica, per me è la cosa importantissima stare in studio e sempre personalmente mi fa star bene, mi piace girare perché mi piace molto mangiare e bere e quindi vado a star bene nella nostra splendida Italia che di solito ci dà dei grossissimi input da questo punto di vista, infatti ho appena aperto un'osteria che è il mio secondo lavoro ormai. Mi viene in mente un'altra cosa che mi fa sicuramente star bene, chiaramente il fatto di tornare a casa e insomma vedere i miei bambini che a cui sono chiaramente molto legato, non si poteva evitare. Assolutamente che dire, ragazzi veramente grazie, non vediamo l'ora di assistere al vostro show, e ce lo fate un saluto a tutta la Massive di Astar Bene. Vai Bun, questo come sempre è il tuo compito. Il mio compito, ragazzi di Astar Bene, noi siamo gli Africa Unite, Bun e Madasky qui e quindi insomma continuate ad ascoltare e a seguire situazioni come questa perché ce ne ha assolutamente bisogno, bella. Yes, hai, grazie mille ragazzi, fantastici ragazzi, grazie, grazie Madasky, super ragazzi, super, grazie.